No, quello che ha detto Calenda più o meno lo condivido del tutto, anzi se Calenda parlasse così probabilmente non dico raggiungerebbe il 10 ma sicuramente salirebbe rispetto a quell'1% di cui è accreditato adesso No, io scrollavo la testa quando ha parlato Cerasa su due aspetti Il primo è sul fatto che Calenda avrebbe dovuto scalare il Partito Democratico Secondo me sarebbe un errore per Calenda ma soprattutto per il Partito Democratico Il PD è entrato drammaticamente in crisi perché si è già fatto scalare con uno che non c'entrava niente col centro-sinistra o soprattutto con la sinistra Quindi se il PD è convinto di rinascere dopo Renzi mettendoci Calenda è la volta che muore del tutto È il mio parere ma io appartengo a quei pazzi assoluti come Cacciari, come Bersani, come altri che sono convinti che l'unica strada possibile possa essere un'unione tra 5 Stelle e PD se entrambi ci credono quindi è già morto in partenza L'altra cosa che dico, le sardine non c'entrano niente con Calenda e non c'entrano niente con i partiti attuali sono esattamente la risposta di tutti quei delusi, di tutti quegli indignati, di tutti quelli che oggi si asterrebbero e stanno urlando dicendo voglio trovare qualcosa la stessa cosa che accadde 12 anni fa con i 5 Stelle e il fatto che quella piazza un giorno era dei 5 Stelle e oggi è delle sardine dimostra l'ulteriore crisi del Movimento 5 Stelle Non ci credo, questo non ci credo, Scanzi, quella piazza là è una piazza di protesta costruttiva tant'è che non dice va a fa' tutti ma dice noi abbiamo un buon candidato e lo sosteniamo e questo è il limite che il Movimento 5 Stelle non ha mai superato e il voto di oggi lo sancisce questo è il punto che non c'è un partito oggi che è capace di scaldare i cuori con una proposta costruttiva lo fa solo con i nemici io ci voglio provare oggi ci danno il 2% lei è trapporto di gente che viene per ridurre la strada ma il 2% mi danno oggi ci hanno dato il 2% sai un 1% in questa condizione conta moltissimo però che sia l'1 o il 2 o il 4 qualcuno ci deve provare io ne sono convinto allora intanto nel Movimento 5 Stelle lei è lì